La prima grande scommessa di Daniele Ialacqua, il rilancio della differenziata che a Messina di fatto non è mai partita. Sì, infatti deve essere una scommessa di tutta la città perché la raccolta differenziata non è un'invenzione degli ambientalisti o di qualche fissato, è prevista dalla normativa ed è l'asse centrale della gestione dei rifiuti in tutto il paese e quindi anche a Messina. Purtroppo a Messina, come in tanti altri comuni, la raccolta differenziata è stata considerata come un servizio in più e non come un servizio strategico. E quindi si è preferito far fronte alla gestione dei rifiuti alla vecchia maniera, prendendo i rifiuti e buttandoli in una buca più o meno lontana, a Messina lontana, pagando molto in termini di costi, in costi non soltanto economici ma anche ambientali e gravando molto sulle casse non solo del comune ma anche dei cittadini. Noi vogliamo invertire questa tendenza e lo possiamo fare soltanto se i cittadini ci danno una mano. Volete rilanciare il porta a porta in particolare? Sì, la scelta strategica è la raccolta differenziata porta a porta, però viste le difficoltà anche qui di mezzi, di risorse eccetera, noi abbiamo pensato di fare un sistema ibrido, di partire con una raccolta differenziata spinta, che vuol dire ottimizzare quello che abbiamo. La raccolta differenziata porta a porta domestica sarà fatta in alcuni villaggi della zona nord e della zona sud, poi si farà un porta a porta commerciale in tutta la città e speriamo nella partecipazione dei commercianti e dopodiché si farà una campagna di ottimizzazione dell'esistente, cioè quindi di conferire maggiormente la raccolta differenziata nei cassonetti e nelle isole ecologiche che sono sottutilizzate. C'è però una delibera che il Consiglio Comunale non ha ancora trattato, il rischio è quello di perdere i 6 milioni di euro di anticipo garantiti dalla Regione e anche di vedere magari chiusa la discarica di Mazzarrà. È da luglio che puntiamo a portare avanti questa delibera perché servirebbe a coprire almeno una parte dei debiti del passato. Purtroppo ci sono degli aspetti tecnocontabili particolari, ci siamo ora consultati in questi giorni con la Regione e attendiamo un nulla osta della Regione per perfezionare questa delibera. Con Terreno Ambiente il problema è semplicemente appunto nel garantire intanto il contingente, il quotidiano e noi in questi mesi lo stiamo garantendo e garantire giustamente gli investimenti di Terreno Ambiente che ricordiamolo vanta credito nei confronti dei comuni della provincia di Messina per 70 milioni di euro. Noi siamo uno dei tanti debitori di Terreno Ambiente e questa delibera potrebbe dare una soddisfazione a una parte di questi debiti.